Salve a tutti amici, oggi è una bella giornata, sono in montagna e niente, sto raccogliendo tutta questa plastica, vetro, ad un paio di mesi che lo faccio, qua c'è un altro sacco pieno, qua c'è un altro sacco pieno e volevo dire a Matteo Montesi che certe persone non le fanno i video e non raccogliono niente, a Matteo Montesi, anzi quasi sta pulendo per me, fanno le foto, fanno i video e non fanno niente, che dice queste re, Matteo Montesi? quello che fa lui è pure buono, però è un'idea cazzata, Matteo Montesi, non c'è niente, è il primo sacco, non c'è nemmeno viaggio un voglio fare, mianco, non c'è niente, non c'è niente, ma svolta i comprain, non c'è niente poverente, non vedo cosa la faccio, ma non è irrede dell' barbecue E' un vetro, il legno magari no. E' un vetro, il legno, il legno, il legno, il legno. E' un vetro, il legno, il legno, il legno. Il legno, il legno, il legno, il legno, il legno. Ciao da tutti!